piccolo appunto per quanto riguarda il video su riproduttori plc avrei potuto utilizzare pure questo cappello qua oltre a quello di natale e dietro avrei potuto mettere pure questa bandiera qua non l'ho fatto ma no per cosa perché volevo stare sul classico comunque se qualcuno gli vuoi interessare fatemi un bel parola di like e io faccio pure questa cosa qua sempre se ci riesco tanti saluti e vota omer